Bene, buon pomeriggio. Allora, l'argomento di oggi è il polimorfismo, che è una delle caratteristiche più importanti della programmazione orientata agli oggetti, nel senso che la programmazione orientata agli oggetti consente di implementare questo concetto in maniera molto comoda. Prima di addentrarci sull'argomento specifico, due parole sui distruttori. Abbiamo visto che cos'è un distruttore, l'altra volta è semplicemente una specie di controparte del costruttore. Se il costruttore serve per inizializzare gli attributi di un oggetto, all'atto della definizione dell'oggetto stesso, il distruttore serve per eliminare dalla memoria l'oggetto creato, quando non è più in vita. Cioè eliminarlo significa rendere disponibile la memoria che occupava per essere riutilizzata durante il programma. Abbiamo visto l'altra volta che il distruttore si definisce semplicemente come il costruttore, semplicemente anteponendo la tilde al simbolo, al nome del distruttore. Allora qui abbiamo tre classi, una classe X che è la classe base, una classe Y che deriva pubblicamente da X e una classe Z che deriva da Y. Quindi sostanzialmente abbiamo un nonno, un figlio, un nipote, cioè tre generazioni. I costruttori non fanno altro che stampare e anche i distruttori non fanno altro che stampare. Che cosa stiamo facendo? Stiamo vedendo un esempio per capire come funzionano i distruttori. Come funzionano i costruttori l'abbiamo già discusso ieri. Cioè quando viene dichiarato un oggetto di una classe derivata, prima parte il costruttore della classe da cui deriva l'oggetto stesso, la classe base, e poi parte il costruttore della classe derivata. Quindi prima si crea sostanzialmente un oggetto della classe base e poi l'oggetto della classe base viene espanso con gli attributi e i metodi della classe derivata. Quindi se adesso noi definiamo un oggetto Z della classe Z, cosa vi aspettate? Intanto compiliamo. Cosa vi aspettate che succeda se io adesso lancio questo programma? Partono i costruttori in che ordine? In che ordine? E i distruttori? Non lo sapete. Nell'ordine inverso. Ecco, questo è il concetto che volevo darvi. E' che a differenza dei costruttori, i distruttori prima distruggono l'oggetto derivato, poi distruggono l'oggetto da cui deriva e così via. Quindi se adesso noi lanciamo, vediamo che prima è partito il costruttore della classe base, poi è partito il costruttore della classe immediatamente derivata, e poi il costruttore della classe derivata da quella derivata. Per quanto riguarda i distruttori, invece, prima è partito il distruttore della classe derivata dalla derivata, poi dalla derivata e poi dalla classe base. Questo per certi scopi, in certi casi, è bene tenerlo presente. L'argomento di oggi, comunque, dicevo che è il il polimorfismo. Però, prima di parlare del polimorfismo, accenniamo un argomento, riprendiamo un argomento che abbiamo accennato ieri, e c'è la possibilità che una classe possa ereditare da più di una classe. Per esempio, se noi abbiamo, vediamo qui un esempio semplice a destra, se noi abbiamo, dobbiamo definire una classe idrovolante, beh, questa classe erediterà le caratteristiche sia del concetto di barca che del concetto di aereo, perché è un po' e un po'. È un po' aereo perché può volare, è un po' barca perché potrebbe, per brevi tratti, anche navigare. E qui abbiamo che il concetto di assistente è mutua attributi e metodi, sia dal concetto di professore che dal concetto di dottorando, in quanto che potrebbe l'assistente anche essere un dottorando, che a sua volta è uno studente, entrambi, studente e professore, sono persona. Quindi, quando si va a definire la tosonomia delle classi nell'Object Oriente Programming, non sempre riusciamo a fare degli alberi. a volte, come in questo caso qui che vedete a sinistra, abbiamo un grafo più generico di un albero. Un albero è un grafo in cui i nodi derivano tutti da un solo nodo, però possono avere più figli. Qui, invece, nei grafi più in generale, un nodo può derivare da più nodi. Va bene. Che cosa succede con l'ereditaria multipla? non succede niente di gravissimo. Vediamo qui un esempio che abbiamo accennato anche ieri, mi pare. Abbiamo una classe B1 con il suo costruttore e un suo metodo. Una classe B2 con il suo costruttore e il suo metodo e poi la classe D che deriva pubblicamente sia da B1 che da B2. Quindi eredita le caratteristiche sia di B1 che di B2. Poi, nell'applicazione, definiamo un oggetto della classe derivata D1. Se lo definiamo e basta, oppure se lo definiamo e andiamo a utilizzare un metodo che è specifico della classe derivata, oppure utilizziamo un metodo di D1 che è ereditato da B1 ma non da B2 o che è ereditato da B2 ma non di B1, non c'è problema. C'è un oggetto della classe B1 c'è un oggetto della classe B2 c'è un oggetto della classe D che deriva da B1 e B2. Quindi adesso qui non ce l'ho. Vabbè, posso fare al volo uno stampa qui. Facciamolo al volo. mettiamo un metodo pubblico della classe D e poi lo evochiamo. come prima e poi vedete che è partito il metodo della classe derivata. Non c'è nessun problema. Il problema nasce quando qua è interessante capire che c'erano tre metodi stampa adesso l'esempio che ho fatto adesso mi porta anche da da un'altra parte. C'erano ci sono tre metodi stampa due che appartengono alle classi genitrici e uno che appartiene alla classe derivata. Io ho lanciato qui ho chiamato il nome dell'oggetto della classe derivata e quindi ho fatto partire il metodo era abbastanza ovvio tutti credo che avremmo risposto così che era il metodo dei tre quello che apparteneva alla classe derivata e infatti non c'è stato nessun problema. Ma se io adesso tolgo questo metodo qui nella classe derivata a questo punto la domanda è questo stampa qui visto che non c'è più un metodo specifico nella classe derivata a quale dei due stampa si riferisce? A quello della classe B1 o a quello della classe B2 visto che D è reddita da entrambe? Avete delle idee voi? se fossero stati voi gli ingegneri che hanno progettato il C++ che cosa avreste pensato di fare in questo caso? Chiaramente c'è una ambiguità e come la risolviamo questa ambiguità? quello che sta più a sinistra sarebbe cioè chi viene prima? Come? Non c'è l'uno l'altro io credo che forse per la prima volta no per la prima volta no ma insomma una delle poche volte che mi sembra che abbiano ragionato abbastanza ragionevolmente correttamente eredita multipla il riferimento alla funzione membro stampa è ambiguo è una cosa troppo grave per poterla consentire il CFA fa tutto però ecco la prima volta che vediamo una cosa che veramente se ce l'avesse compilata sarebbe stato grave perché avrebbe preso probabilmente il primo e poi capito magari uno scambia il posto del codice e il programma si comporta in maniera totalmente diversa sarebbe stato veramente grave allora però non so se avete capito che il C e il C++ eredita da quella filosofia si spinge più possibile verso il farti fare tutto quello che ti viene in mente di fare altri linguaggi non lo fanno proprio compilare indipendentemente dal fatto che effettivamente si verifichino un'ambiguità cioè altri linguaggi non consentono di derivare altri linguaggi object oriented non consentono di derivare contemporaneamente da due classi così tagliano il problema proprio alla radice questo invece te le fa compilare a meno che non c'è un'ambiguità guardate che l'ambiguità adesso se abbiamo solo tre classi ma supponete che B1 e B2 derivavano da altre da altre da altre magari l'ambiguità si sarebbe risolta alla quinta sesta generazione non risolta si sarebbe evidenziata il compilatore comunque se ne accorge di questi problemi e non fa compilare in questo caso va bene questo dimmi era quello che ho fatto prima quello che dicevo il C++ te lo fa fare invece Java non te lo fa non avrebbe compilato qui il Java ho imparato eh allora c'è il modo di specificare se usare l'uno o l'altra e devi devi mettere il nome della allora la domanda è stata molto opportuna e intelligente grazie ringrazio chi l'ha fatta mi ha chiesto se c'era la possibilità di poter specificare quale dei due modi visto che lo fa compilare credo che era questa la linea di pensiero visto che il C ti fa compilare ti fa derivare da due o più classi contemporaneamente che c'è la possibilità di poter accedere a decidere quale dei due metodi genitori eventualmente che hanno lo stesso nome far partire nel figlio sì basta promettere al nome del metodo l'operatore di risoluzione di 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 come l'ho chiamato risoluzione di nomi come si chiamava questo qua divisibilità chiedo scusa il produttore di risoluzione di visibilità e prima ancora il nome della classe a cui appartiene quel metodo che vuoi invocare perché ricordiamoci ovviamente che le classi derivate gli oggetti delle classi derivate ereditano tutti i metodi delle classi ovviamente e quindi è possibile da D con 1 che è un oggetto della classe D evocare stampa di B1 perché D eredita da B1 sto dicendo queste cose già note le sto ripetendo grazie per la domanda ci stiamo a divertire adesso si è arrabbiato perché vedi che fare questi giochini è istruttivo perché stavolta si è arrabbiato ho messo manco come io me ne ero accorto così gli va bene B1 non gli va bene B2 io una mezza risposta ce l'ho eh anzi ce l'ho ce l'ho ce l'avete pure voi beh in effetti non me ne ero mai accorto deriva pubblicamente da B1 se non si mette lo specificatore public si intende lo specificatore private come ereditarietà quindi tutto ciò con lo specificatore private diventa tutto privato quindi il metodo B2 non può essere accessibile perché c'è in D ma è privato lo potremmo utilizzare solo da un metodo DD e non dal main bene adesso invece veniamo un po' a quello che volevo che considero l'argomento centrale di oggi e parliamo proprio di questo della possibilità di poter sovrascrivere nomi di metodi cioè sovrascrivere non so se la traduzione più in inglese overloading sovraccaricamento cioè la possibilità di poter dare di poter chiamare con lo stesso nome metodi diversi allora che cosa intendo abbiamo qui una classe base X che ha un metodo F e poi abbiamo una classe Y che deriva da X e che ha pure un metodo che si chiama F è un caso di prima che tutte e due si chiamavano stampa adesso cerchiamo di ragionarci un pochino e e poi nel main definiamo un oggetto X della classe base e poi siccome che pubblico l'attributo A guardate che sovraccarichiamo anche A allora siccome pubblico l'attributo A lo possiamo tranquillamente valorizzare dal main e gli diamo valore 22 che è un intero e poi lanciamo il metodo F della classe X e poi andiamo a vedere quanto vale A dell'oggetto X che vi aspettate che che scriva qui sono d'accordo 22 adesso definiamo un oggetto Y della classe derivata e andiamo a valorizzare l'attributo A e gli diamo un altro valore 44 poi mediante l'operatore di risoluzione di visibilità andiamo a valorizzare anche l'attributo A sembrerebbe di un'altra classe e gli diamo 66 l'abbiamo fatto poco fa per cui in effetti non c'è un mistero questo funziona l'abbiamo fatto in risposta alla domanda che mi hai fatto te per cui qui la domandina non la posso fare in quanto che la risposta è già bella che è data dall'esempio precedente forse forse qualche dubbio può nascere qui se lanciamo il metodo F dell'oggetto Y quale metodo parte Fino a qui tutto sommato siamo abbastanza convinti tutti adesso andiamo un pochino avanti qui facciamo una verifica lanciamo questa istruzione di stampa in cui chiediamo di andare a stampare l'attributo A probabilmente della classe base e ancora io mi ci trovo non ho dubbi su quello che sta per accadere adesso qui mi crea qualche problema mi creo un oggetto Z della classe base e lo assegno gli assegno l'oggetto Y e poi vado a stampare A che stamperà qua innanzitutto è possibile farlo sì o no e poi se è possibile farlo ce lo togliamo subito il dubbio è possibile farlo che stampa a questo punto stampa 22 44 66 non mi è arrivata una voce univoca anzi non mi è arrivata manco una voce nitida allora c'è un 66 con un multicondizionale ho visto ho sentito potrebbe forse stampare 66 ok Allora, prima che vi addormentiate, lo lanciamo, tanto ognuno si è fatto una sua idea. Perché stampa 66? Sì, il ragionamento che mi è arrivato è corretto, però cerchiamo adesso di capire bene che cosa è successo. Allora, questo era il nostro programma. Abbiamo compilato e questa è stata l'esecuzione del programma. Ma tutto sommato si è comportato come l'abbiamo cercato di seguire pure noi. L'unica incertezza grave ce l'avevamo qui alla fine, almeno io ce l'avevo. Abbiamo visto che ha stampato 66, quindi l'attributo A dell'oggetto Z vale 66. Perché l'oggetto Z è un oggetto della classe base. Quando vado ad assegnargli Y, Y è vero che ha un attributo A, e che vale 44. Però Z non è della stessa classe di Y. Z è della classe X. E quindi va a prendere un altro A che Y ha dentro. Perché ricordiamoci che Y è un oggetto della classe Y che deriva da X. Quindi le cose, se le andiamo a vedere graficamente, stanno così. L'oggetto X della classe X ha un solo attributo A e che vale 22. Quando vado a definire qui Y della classe Y, questo Y ce n'ha due di A. Si chiamano tutte e due A. Si chiamano tutte e due A. Però per distinguerli, sul primo ci ho messo X, due punti e due punti A. Perché questo sarebbe l'attributo che Y eredita dalla classe genitrice. Dopo di suo ce n'è un altro. Per come l'abbiamo definito questo qui. Quindi Y ha due A. Questo e questo. Uno è raggiungibile scrivendo X grande e due punti e due punti A. Questo. E l'altro è raggiungibile scrivendo semplicemente A. E c'è anche due metodi F. Che qui in figura non sono rappresentati. Cioè, in pratica, Y ha quattro cose. I due del padre e i due suoi. Che si chiamano A2A2 allo stesso modo. Quando poi vado a definire l'oggetto Z della classe X, questo solo due ce n'avrà. C'è un metodo e un attributo. Perché è un oggetto della classe X. E quando lo vado a assegnargli con il valore di Y, l'effetto è che gli viene passato l'attributo che Y ha che però gli deriva da X perché Z è un oggetto della classe X e quindi si prende l'attributo della classe X da cui Y deriva. E' un concetto che non è proprio del tutto intuitivo. Però quando si ha a che fare con la programmazione orientata agli oggetti bisogna tenerlo presente. Bisogna tenere presente che noi possiamo ridefinire attributi e metodi nelle classi derivate con gli stessi nomi della classe da cui una classe deriva. Questa sarebbe sovrascrittura o sovraccaricamento, se volete. Al momento sembra solo una grande complicazione. ma in realtà è una notevole potenza del del linguaggio C++ in generale del linguaggio orientato agli oggetti. Cerchiamo di capire perché. Che cosa vi faccio vedere per prima? Questo facciamo prima questo esempio qua. Allora qui abbiamo non so se si vede ingrandisco un po' per quanto posso abbiamo una classe persona che ha un attributo lo mettiamo come protetto perché si capisce che è un attributo e non lo mettiamo come privato perché vogliamo che anche le derivate possano ereditare che ha un nome che sarà una stringa poi la classe persona c'è il suo costruttore che prende una stringa come input dopo di che assegna all'attributo nome una nuova stringa messa nello heap memoria dinamica è un esempio che raccoglie un po' di concetti e la lunghezza della stringa che andiamo a creare è data dalla lunghezza della stringa che gli abbiamo passato più uno perché ci metteremo anche il carattere di terminazione di stringa lo faremo con la string copy che prende la stringa che avremo passato all'atto della chiamata all'atto della creazione dell'oggetto di tipo persona e questa stringa la andrà a mettere nel campo nome nell'attributo nome poi abbiamo una funzione un metodo stampa che scrive mi chiamo e poi scrive il nome poi abbiamo una classe studente che deriva pubblicamente da persona perché uno studente è una persona con un attributo privato che è la media dei voti che ha ricevuto agli esami lo mettiamo privato perché pensiamo che questa classe studente è la foglia dell'albero delle classi è una foglia non ci avrà altri figli ci fermiamo qui e lo consideriamo quindi un attributo privato anche studente c'è il suo costruttore il costruttore di studente prende due parametri il nome tanto per capirci e poi il valore della media dei voti che ha riportato lo studente che cosa fa? come abbiamo visto ieri essendo il costruttore di una classe derivata prima fa partire il costruttore della classe base e gli passa il parametro che lui ha ricevuto che però l'ha ricevuto in eredità e quindi lo passa al costruttore della classe base in maniera tale che lo utilizzi per generare l'oggetto della classe base da cui lui deriva invece il parametro suo specifico M lo utilizza per inizializzare il suo attributo privato cosa fa? nient'altro fa solo questo anche la classe studente c'è un metodo ed ecco il senso dell'esercizio dell'esempio questo metodo ha lo stesso nome del stampa del metodo della classe genitrice che cosa fa? scrive in output mi chiamo il nome e poi a differenza di quello della classe genitrice scrive anche e la media dei miei voti vale tot da ultimo abbiamo un'altra classe derivata da persona professore che ha un altro attributo privato il numero delle pubblicazioni che ha fatto e ha il suo costruttore il suo costruttore prende il nome e prende il numero delle pubblicazioni e lo utilizza per inizializzare come abbiamo visto prima il nome e le pubblicazioni poi anche anche questo c'è un metodo che si chiama allo stesso modo stampa mi chiamo come si chiama e ho fatto 8 pubblicazioni a cosa serve aver usato lo stesso nome di metodo in tre classi diverse è semplice se io non faccio cose complesse come sto per farvi vedere e definisco semplicemente un oggetto x della classe persona e gli passo il nome questo stampa qui essendo un metodo di un oggetto x della classe persona farà partire il metodo stampa suo e così per il secondo stampa che farà partire lo stampa dello studente e per il terzo stampa che farà partire lo stampa del professore quindi noi abbiamo la possibilità quella che hanno un po' tutti i linguaggi così facendo di di utilizzare un nome solo per metodi diversi la disambiguità è risolta semplicemente andando a vedere di che classe è l'oggetto a cui appartiene quel metodo partirà una funzione oppure un'altra a seconda della classe dell'oggetto che possiede quel metodo perché ci mette il terminatore string copy no string length la lunghezza della stringa allora perché dovrebbe andare fuori perché dovrebbe andare fuori un po' un po' Grazie. Non è cambiato niente. Così mi sembra più corretto, però. Grazie, grazie. Sì, avevo probabilmente battuto male. Come mai funzionava lo stesso? Ci dovrei ragionare un pochino. Però è fuori dal tema di oggi. Questo che avete appena visto è un sovraccaricamento che spiega il senso dello riutilizzare lo stesso nome. Spero che sia chiaro. Potremmo generalizzare questo concetto. Per esempio, supponiamo di avere una classe, siamo nei videogiochi, che rappresenta un personaggio. E poi, supponiamo di stare nei videogiochi, veramente. E questo qui è un personaggio generico. Questo qui è un personaggio come quello specifico. Per esempio, animale, quadrupede, bipede. E poi la funzione stampa, invece che stampare, muovi, cammina. Nell'animale generico potrebbe essere una funzione cosiddetta virtuale e che non fa niente. Dopo, mi spiego. Potrebbe essere un metodo che non fa niente. Perché per l'animale generico muoversi potrebbe non significare niente. Per un quadrupede si implementerebbe una funzione che lo fa muovere, muovendo le quattro zampe, nella simulazione, nel videogioco. Per un bipede, invece, una funzione che lo fa muovere, lo fa camminare, muovendo solo due gambe. E il vantaggio qual è? È che non dovrei specificare muovi con due gambe, muovi con quattro gambe, e chiamare diversamente le funzioni. Le chiamo alla stessa maniera. Leggendo il codice c'è una clamorosa semplificazione, ovviamente. Perché io so che si deve muovere, deve camminare. Poi dopo, come camminerà dipende da qual è quell'oggetto lì. Camminerà in modo o in un altro a seconda di qual è la classe di quell'oggetto. Ma il concetto di cammina è uguale per tutti. Fino a qui, tutto sommato, è abbastanza chiaro. E non c'è una grande novità. rispetto anche ad altre linguaggi. Ma il C++ ci consente di fare anche un'altra operazione che era il cosiddetto binding dinamico. Quello che avete visto è un binding statico. Perché? Innanzitutto che cos'è il binding? Il binding è l'associazione di un puntatore a un valore. Quando noi chiamiamo qui stampa, stampa che cos'è? È il nome di una funzione. È il nome di una funzione, altro che non è, altro non è che un puntatore al primo indirizzo della funzione. Quando noi chiamiamo stampa applicato ad X, stiamo dando un valore a quel puntatore stampa che è proprio l'indirizzo del metodo de X. questa operazione viene fatta a tempo di compilazione ed è bloccato, è fisso. Cioè stampa, questo stampa qui, punterà l'indirizzo della funzione stampa dell'oggetto X. Viene detto binding, binding vuol dire legame statico, perché viene fatto al momento della compilazione. e questo ce l'hanno anche gli altri linguaggi oggetto-oriented. Con il C++ possiamo anche fare il cosiddetto binding dinamico. Di che si tratta? Torniamo un pochetto indietro all'esempio di poco fa dove avevamo la classe X e la classe Y Y che derivava da X e avevano entrambe il metodo F che era una istruzione di stampa. Visto che stiamo nel C++ anche se era un po' che non li vedevamo rigoveriamo i puntatori. Stiamo in C. Questo ovviamente non lo potete fare in Java. Ma stiamo in C e quindi mischiamo oggetto-oriented e programmazione. Per quello alla gente non gli piace il C++. Per queste cose che state per vedere adesso. Perché mette insieme la programmazione cosiddetta evoluta, quella oggetto-oriented con la programmazione considerata a basso livello quella con i puntatori. Noi rimischiamo adesso perché tanto a noi ci piace fare le papparozze andiamo a recuperare un puntatore e definiamo un puntatore ad X. Ecco, fino adesso non l'avevamo credo mai fatto però come che avevamo i puntatori interi i puntatori a float i puntatori a char i puntatori E i puntatori a struct adesso ci abbiamo un puntatore a class puntatore a class cioè P è un puntatore ad oggetti della classe X cioè è nato è stato definito qui questo puntatore per puntare eventuali oggetti che io volessi definire della classe X grande X maiuscolo infatti dopo mi definisco un oggetto X della classe X maiuscolo e vado a dare a P l'indirizzo di X quindi P è un puntatore che sta puntando l'oggetto X a questo punto io potrei fare così come forse vi ricordate o dereferenzio il puntatore e poi scrivo punto F così facendo cosa dovrebbe succedere? dovrebbe partire il metodo F dell'oggetto puntato da P oppure si parte oppure più come abbiamo imparato a suo tempo a fare più comodamente scriviamo così che è la stessa cosa cioè P freccia fa dereferenze a P quindi va a prendere l'oggetto puntato da P e ci mette il punto per andare a prendere fino adesso l'abbiamo usato per per prendere gli attributi quando abbiamo fatto per esempio le liste adesso invece lo usiamo per prendere un metodo per far partire il metodo quindi parte il metodo F poi definiamo un oggetto X della classe Y derivata ridiriggiamo P a puntare Y piccolo e facciamo la stessa operazione punto interrogativo e sono di nuovo qui a chiedere a voi secondo voi alla riga 24 quale metodo parte intanto vediamo se ce lo fa fare ce lo fa fare non so se siete riusciti a seguire un pochino la presentazione di questo esercizio di questo esempio comunque è tutto davanti ai vostri occhi ci ragionate un attimo e poi mi fate scusate la domanda ripeto alla riga 24 quale metodo parte il metodo F della classe X o il metodo F della classe Y perché parte quello della classe X la risposta che mi è stata data è perché P è un puntatore alla classe X e quindi quando io lo vado a dereferenziare mi va a prendere il metodo della classe che lui punta non so se siete tutti d'accordo non ci sono voci di disaccordo e se è così devo dire che siete siete proprio bravi nulla da dire riguardo la vostra bravura quindi noi stiamo facendo un'operazione abbastanza se volete sporca perché ripeto stiamo miscelando programmazione orientata di oggetti con puntatori però ci potrebbe stare qualche alla fine un premio per cui adesso abbiamo visto una cosa brutta che fa capire che forse è una strada che non porta però se abbiamo un pochetto la pazienza fra dieci minuti al massimo al massimo si vede qual è il vantaggio la cosa brutta che abbiamo visto è che questo puntatore l'abbiamo mandato a puntare la classe un oggetto della classe base e effettivamente ha funzionato l'abbiamo utilizzato per lanciare un metodo o avremmo potuto prendere un attributo della classe base poi l'abbiamo mandato a puntare un oggetto della classe derivata fra l'altro appunto ce l'ha fatto fare non si è arrabbiato qui scusate non si è arrabbiato alla linea 23 ce l'ha fatto fare però non siamo riusciti a trarre un vantaggio parte che forse qualcuno di voi si potrà chiedere ma dove voglio andare a parare che ci vuoi fare questo puntatore e intanto ve lo posso dire cosa ci voglio fare io ci vorrei fare un puntatore che mi punta vari oggetti e lo sposto e ogni volta che lo vado a deferenziare mi fa partire il metodo di quell'oggetto che puntava cioè mentre prima nell'esempio precedente io ho dovuto esplicitare il nome dell'oggetto a cui apparteneva il metodo era come l'esercizio quando abbiamo fatto prima dei vettori esattamente cioè io posso fare un vettore di puntatori per esempio oppure posso semplicemente aumentare anche di uno il valore di un puntatore lo posso mandare a puntare un altro oggetto quindi con un ciclo for io potrei far partire una quantità di metodi differenti che hanno tutti lo stesso nome che hanno tutti lo stesso nome è lì il vantaggio perché sto sfruttando il sovraccaricamento metto tutto dentro un ciclo for dove voglio andare a parare metto tutto dentro un ciclo for faccio un puntatore che mi incrementa e a ogni ciclo mi fa partire un metodo quindi io per esempio se ho il quadrupede e ho il bipede e poi ho il millepiedi che hanno il 50 piedi il 100 piedi il millepiedi e hanno tutti delle funzioni cammina diverse se li voglio fa muove tutti io con un ciclo for li faccio muove tutti non devo specificare bipede muovi quadrupede muovi cioè dare il nome all'oggetto con il puntatore faccio passare tutti gli oggetti e li faccio partire a ciascuno al metodo suo quindi questo rappresenta una potenza notevole dal punto di vista della programmazione solo che mi sto scontrando questo problema e cioè che il puntatore mi è andato a puntare una classe derivata ho dereferenziato ma mi ha fatto partire il metodo della classe base e quindi per arrivare dove voglio arrivare devo risolvere questo problema allora il C++ ci mette a disposizione la tecnica per superare questo problema e la tecnica semplicemente è quella di anteporre la parola virtual al nome del del metodo della classe base qui abbiamo il metodo F nella classe base che non riuscivamo a a a far a meno di far partire scusate adesso ho solamente anteposto la parola virtual alla definizione del nome del metodo nella classe base sto dicendo questo sto dicendo questo il metodo F nella classe base è un metodo virtuale che in quanto tale se nelle classi derivate della classe madre venisse ridefinito non deve più essere considerato quello della classe madre ma deve essere considerato quello della classe base se nella classe derivata non viene ridefinito allora utilizza quello della classe madre per togliere la disambiguità e consentire di risalire se non è ridefinito se non di utilizzare quello della classe definita cioè io ci metto in pratica l'unica cosa che ho cambiato ci ho messo questo virtual è lo stesso esempio questo è quello di prima lo ricompilo e lo faccio partì e mi dà lo stesso problema adesso qui antepongo virtual al metodo della classe madre salvo compilo e lancio e ho risolto il mio problema a questo punto sto vicino al salto al salto di potenza perché io a questo punto che cosa posso fare torniamo al caso della della persona da cui siamo partiti è lo stesso esempio di prima e mi rimetto nella condizione brutta definisco un puntatore a persona che sarebbe la classe madre poi definisco un oggetto x della classe persona gli do il nome ugo poi lancio mando p a puntare ugo e stampo poi mi definisco un oggetto y che si chiama tom che è uno studente mando p a puntare lo studente e stampo faccio lo stesso anche col professore che si chiama Aldo e stampo tutte e tre le volte stampo ma che stampa io non lo so come fate ma avete già studiato queste cose beh allora non lo so che avete mangiato voi da come vi hanno nutrito i vostri genitori non lo so di chi è il merito siete bravissimi indubbiamente siete bravissimi allora lancio compilo ah una cosa c'entra niente però visto che ci siamo che cosa dice me l'ha fatto mi ha fatto compilare però mi dice warning deprecated conversion from string constant to puntatore a carattere che significa questo sapete che significa versioni vecchie del C è vero adesso ti dice che non gli piace sta cosa che cosa non gli piace però un po' è l'inglese un po' è stringato il compilatore per cui non è che si spiega granché cosa non gli sta piacendo lui non vuole non gli piace questo non gli piace che qui c'ha una stringa c'è un puntatore a carattere e attenzione questo è un puntatore a carattere quindi S può essere variato e gli passo questo oggetto qui che invece è una stringa letterale e non va bene nel senso che quella è una stringa letterale e quindi non può non può essere cambiato il valore di S non potrebbe essere cambiato perché io gli sto passando quel valore lì che è un valore costante e non può essere cambiato quindi per eliminare questo problema qui ci dovete mettere cost cioè S deve essere un puntatore costante perché tu gli stai passando quel valore dopo di che deve rimanere quello non può cambiare ma torniamo invece alla domanda originaria che cosa fa adesso questo mi chiamo Ugo mi chiamo Tom e mi chiamo Aldo cioè fa partire sempre il metodo della classe base mi chiamo e il nome nient'altro perché il metodo void stampa della classe base era un metodo quando è andato a dereferenziare il puntatore P siccome P è un puntatore a persona ha fatto partire il metodo stampa della classe persona e non della classe studente e non della classe professore quindi cosa devo fare per risolvere il problema non ho capito entrambe sono derivate da persona io metto il metodo stampa di persona come virtual ricompilo rilancio mi chiamo Tom e la mia media vale quindi virtualizzando il metodo della classe base quando dereferenzio il puntatore al metodo della classe derivata che si chiama come quello della classe base in realtà a me parte quello della classe derivata questo era sostanzialmente il concetto cerchiamo adesso di riepilogare e poi ci lasciamo un po' allora che cosa sono i metodi virtuali virtual anteposto alla dichiarazione di una funzione indica al compilatore che innanzitutto che quel metodo può essere utilizzato ridefinito in una classe derivata con lo stesso nome sovraccaricato e se ci metto virtual quella funzione scusate posso invocarla tramite un puntatore e se non sono riuscito a far capire l'importanza di poterla far partire con un puntatore fra poco ci ritorno quindi io per esempio in una classe figura posso virtualizzare il metodo per calcolare l'area posso virtualizzare il metodo per disegnarla si intende che poi triangolo che deriva da figura cerchio che deriva da figura utilizzeranno proprio calcolare e disegna della classe base cioè con lo stesso nome della classe base a questo punto io cosa posso fare questo l'abbiamo visto se uso il puntatore per riferirmi ai metodi delle classi derivate applico il metodo binding cosiddetto dinamico che il c++ mi consente di poter utilizzare l'altro abbiamo visto è statico quello in cui io proprio do il nome dell'oggetto e il nome del e con ecco cosa posso fare spero che si veda supponiamo che io ho una classe cerchio e una classe rettangolo che derivino da figura mi creo un oggetto questo è il binding statico guardate qua giù invece il binding dinamico io mi creo un un vettore di puntatori oggetti della classe figura poi con la memoria dinamica mi mi creo un nuovo cerchio un nuovo rettangolo un nuovo triangolo un nuovo pentagono un nuovo quello che volete voi e poi faccio qui non ce l'ho messo un ciclo for o un while e dentro il corpo sarà figure i questo i che scorre da zero a disegna l'effetto sarà che si disegnerà un triangolo si disegnerà un cerchio tutto con la stessa chiamata disegna quindi in effetti il binding dinamico è una grande potenza lo svantaggio è che è più lento del binding statico ci mette un po' di più perché deve andare a dereferenziare un puntatore che ogni volta cambia e poi andare a capire qual è l'istruzione che deve far partire e far partire il binding statico quello in cui il legame viene fatto fra valore del puntatore che sarebbe il nome della funzione e effettivamente l'indirizzo della prima istruzione che deve partire viene fatto a tempo di compilazione qui invece l'assegnamento fra valore del puntatore e primo indirizzo della funzione da far partire è fatto a run time anche per questo è più lento allora i vantaggi spero che siano stati chiari del polimorfismo sia quello statico che quello dinamico quello statico c'è anche da di ce l'hanno tutti i linguaggi oggetto oriente programmi quello dinamico ce l'hanno i linguaggi oggetto oriente che però ce l'hanno i puntatori perché se non ammetti i puntatori questo gioco non lo puoi fare chiaramente va bene con questo è finita quasi c'è una solo chiusetta da dirvi che ve la dico la settimana prossima la teoria delle eh